Hai mai provato la sensazione di far parte di qualcosa di molto più grande di te? Energia, universo, arte, letteratura, musica, meditazione, yoga, discipline olistiche, spiritualità, fisica quantistica, di questo e di tantissimi altri argomenti stuzzicanti? Parleremo nel mio nuovo programma, L'Illumino d'immenso, che andrà in onda tutti i martedì alle 19 italiane, in diretta da Londra su Appivo e Bredio. Vi aspetto, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!